Presentata una proposta di legge sulla disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Basilicata, i consiglieri Giannino Romaniello, SEL, primo firmatario, Vincenzo Santo Chirico e Giuseppe D'Alessandro, del PD, Rocco Vita, PSI e Enrico Mazzeo Cicchetti, di VU, mirano a disciplinare ed incentivare in Basilicata lo sviluppo e la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale. La proposta vuole anche garantire che i prodotti immessi sul mercato con la denominazione di commercio equo e solidale, scelti proprio per questo dai consumatori, presentino una serie di caratteristiche a garanzia del consumatore, coerenti con quelle definite a livello internazionale dagli organismi di settore. Commercio equo e solidale coinvolge più di un milione di produttori e lavoratori su piccola scala in oltre 50 paesi del sud del mondo e rappresenta uno degli strumenti più interessanti finalizzati a contemperare le diverse esigenze di qualità e tutela del consumatore che riguardano gli scambi commerciali con il sud del mondo. Il commercio equo e solidale, afferma Giannino Romaniello a nome dei firmatari, costituisce un'alternativa concreta per tanti lavoratori del sud del mondo e per altrettanti consumatori dei paesi a maggiore sviluppo.